Amici di Twitch, buonasera a tutti, benvenuti, quanto tempo, no, in realtà martedì, però martedì essendoci stata una live un po' speciale sull'intelligenza artificiale, poi Andrea non faceva altro che parlare, parlare, gli spanchi veramente eravamo spettatori, oggi invece si ritorna la vagonata di popcorn per noi, questa sera invece si ritorna la grandissima perché abbiamo come ospite una grandissima eccellenza all'interno del mondo della recitazione e del doppiaggio, ma non solo che Maurizio Merluzzo, Maurizio grazie, buonasera ragazzi, buonasera tutta la chat, buonasera a voi, buonasera alla chat, grazie mille per aver accettato, grazie per l'eccellenza, è vero, è vero anche perché per chi non lo sapesse questo è il format che va a invitare le eccellenze nei vari ambiti della cultura pop, quindi parliamo non solo di recitazione e doppiaggio ma parliamo anche di musica, di gaming, di creazione di contenuti, di regia, di sceneggiatura, di fumetto, di tante belle cose, e quindi Maurizio stasera veramente siamo felicissimi, che onore, grazie, grazie a te, però prima di andare a bomba con Maurizio, ecco adesso mi è scappato, ma si sentiva? eh? non si sentiva? no ma ti vedevamo? ti vedevamo? cioè se io mudo il microfono, no? no perché tante volte mi prende quello della camera allora cominciamo a perculare, sì quello che è tipo, non è che... vedi, Maurizio è entrato in pieno clima live, insomma perché spanchi, tu sei... però prima di iniziare con lui andiamo innanzitutto a salutare la chat, i moderatori che fanno sempre un ottimo lavoro, ciao Jackie, Jack, fanpage, i nostri VIP, Mr. Lannister, vedo connesso Tommy, Simona, un saluto anche a tutti gli altri ovviamente, e andiamo a ricordare l'ovvio, ossia i comandi chat, quindi spanchi, veramente, 30 secondi punto esclamativo Telegram, momenti meme, programmazioni, punto esclamativo sub, dai 3,99 euro al mese in su, gratis, completamente gratis se avete Amazon Prime, saltate le pubblicità, recuperate i VOD, usate le nostre emoticon personalizzate e entrate nel nostro gruppo privatissimo di Telegram, dove ci siamo noi che scriviamo e anche alcuni ex ospiti, punto esclamativo ospite questa sera il social, i social del nostro Maurizio, mi raccomando seguitelo in tantissimi, ma non stalkeratelo, punto esclamativo quote, pesca una frase storica detta da noi o dai nostri ospiti, che volenti o nolenti è rimasta lì, nell'epicità del programma, chissà se questa sera ne uscirà qualcuna di nuovo, a chi lo sa, punto esclamativo website, il nostro fantastico sito, e punto esclamativo partners, i nostri fantastici partners, tulcesi in fundo, donate. Com'è andata Maurizio? Perché devi sapere... Ma che forte forte è il cuore. Meraviglioso. Vedi? Mi aspettavo un cordiale. No, no, no. Meraviglioso. Meraviglioso. Ti conosci ancora poco Spanky, tra poco ti... Solo in questo. Ti darà... Guarda che carina, c'ha il cappello di Rufy, il cappello di Cioppe, il cappello di Mario, di Pikachu, di un altro Mario, beh, bellissimo il tatuaggio. Sì, ce n'ho due. Ma è bellissimo. Oddio. Il secondo c'è da dire, ragazzi, nica cazzi. Cavolo. Esatto. Abbiamo anche assistito alla creazione, sto fine settimana. No, che bello. Però c'è da dire, Maurizio e tutti i capelli e benedì laddietro li ha un po' rubati dal suo periodo GameStop, perché lei lavorava a GameStop ogni volta... Non è vero, sono calugna, amici di GameStop. Amici di GameStop. Grande Spanky, dice Berserk. Tantase, tra l'altro, grazie mille per i sei mesi, Berserk. Ho visto prima nel pre-live, fantastico. Comunque, Maurizio, eccoci. Guarda, noi non abbiamo nulla di preparato perché ci piace vedere un po' dove ci porta la conversazione. Prepariamo in niente. L'unica cosa che è uguale per tutti è la prima domanda, che ti vado a porre con un piccolo preambolo, perché, insomma, è inutile, però piace la chat, quindi lo faccio ugualmente. Il preambolo è questo, noi magari ci alziamo la mattina, usciamo di casa, incontriamo un numero X di persone, possono essere dieci, e in base a come ci poniamo con loro, magari qualcuno ci sta simpatico, antipatico, la mattina abbiamo la luna storta, no, queste dieci persone avranno dieci immagini diverse di come noi possiamo essere. Però, dal nostro punto di vista, è molto interessante vedere come il nostro ospite vede se stesso. Quindi io ti chiederei, chi è Maurizio? Non tanto dal punto di vista artistico e professionale, perché ne andremo a parlare dopo, quanto proprio dal tuo punto di vista per quel che riguarda aspetti caratteriali, passioni, hobby, che magari esulano da quello che è l'aspetto prettamente lavorativo, o magari no. Bella domanda. Chi è Maurizio? Maurizio è una persona che si è evoluta tantissimo nel corso degli anni, dei suoi 37 anni compiuti, questo mese tra l'altro, 15 giorni, 15 giorni, 12 giorni fa ho compiuto 37 anni, è una persona che si è evoluta tantissimo umanamente, fisicamente, mentalmente, crescendo, perché, insomma, ho fatto vari percorsi di vita, insomma, dalle scuole che non è stato un po' il proprio periodo più felice, fino all'evoluzione, alla scoperta della propria voce, alla volontà, del proprio sogno, di ciò che voleva fare da grande, del lavoro che ha fatto, non sono Cristiano Ronaldo, quindi non parlo in terza persona, il lavoro che ho fatto per arrivare dove sono arrivato, insomma, e una volta arrivato non mi sono adagiato, ho voluto sempre di più, sono una persona che vuole sempre di più, sono una persona che ha avuto a che fare con tante altre persone, che ha sentito tante storie, tanti racconti di persone più grandi di me, e quindi vivo nella consapevolezza che tutto è effimero e tutto è più veloce di quanto crediamo che sia e quindi agisco ogni giorno per far sì che guardandomi indietro possa vedere tante cose diverse e non una linea, ma mille vite, mille esperienze, insomma, tante cose diverse. Ok, poi sono uno sportivo, sono una persona che si allena da sempre praticamente, sono due anni che pratico wrestling nella federazione SIW, sabato sera, quello che è passato, ho avuto un evento molto grande in Toscana, dove ho vinto un match che mi porterà per il titolo italiano del 3 marzo, sono anche un grande videogiocatore, mi piacciono molti videogiochi da quando ero bambino, quindi sono molto nerd sotto quel punto di vista, come potete vedere dietro di me sono un grandissimo fan di One Piece, vagamente, sono fan di One Piece a livelli devastanti, è uscito di recente un video sul mio canale dove ne parlo, leggo One Piece da 22 anni, quindi è come se fosse un po' il mio migliore amico, e mi ha regalato tante soddisfazioni, la passione per i manga e gli anime mi ha regalato tante soddisfazioni incrociandosi con il mio lavoro e tutte le cose che ho fatto e che faccio. Ok, ma dato che, diciamolo, siamo quasi coetanei, noi e te ne parlavamo anche nel pre-live, hai parlato... Di pochissimo, però te ti riporti sicuramente meglio, a tetta di spanchi, perché per me io sono... Certo, lo sottolineo. A tetta di spanchi, perché... Sì. Esatto. Allora, se lo dici spanchi... Se lo dici spanchi, è la verità. Ho anche gli occhiali. Mi scopo la verità. Hai parlato di videogiochi, no? Io mi ricordo che sono cresciuto con l'Amica 500, no? Poi c'erano... Mano a mano che andavamo avanti, varie cose. Ecco, te hai, diciamo, una console o un gioco che ricordi con particolare emozione, coinvolgimento del passato, diciamo? Allora, la mia prima console, mia personale, non di mio fratello, mio fratello aveva l'Amica 500, la mia è stata il Siga Master System 2 con Alex Kidd. E avevo Enduro Racer, Spy vs Spy, giocavo a quelle lì. Poi, siccome nella palazzina in cui abitavo c'era un altro ragazzino, abitava sopra di me, eravamo molto amici, lui poi ha avuto il Nintendo e il Super Nintendo, quindi quando uno aveva una console a casa, l'altro non la comprava perché poi si giocava tra di noi, non aveva senso avere due console uguali. Quella che ricordo con più piacere e con più affetto, però, è la prima PlayStation, che è arrivata il 27 dicembre del 1997 a casa, comprata insieme a mio fratello, che prendemmo il pack con DualShock. Quella sera fu molto emozionante perché l'attaccammo in salotto, la prima PlayStation, abbiamo giocato alla demo, c'era la demo di Hercules, c'era Cool Award, c'era Cool Boarders. Non c'era anche Wipeout come demo? Wipeout, esatto, e un'altra serie di giochi, ma mio fratello giustamente disse, vado al Prato Video, perché io sono di Prato, ad affittare un giochino, e tornò a casa con FIFA 97, perché il 98 era uscito ma non ce l'avevano, e quindi giocammo a FIFA. E ci fu una situazione che porta poi, no, al mio ricordo del mio gioco preferito, perché io vedi dietro la scatola un gioco e gli dissi, Enzo, mio fratello Enzo, guarda questo gioco, si chiama Final Fantasy VII, guarda che grafica che ha, prendilo, ora che vai al Prato Video. Mio fratello ha detto, torna con Final Fantasy VII, mettiamo, il CD parte, la intro, il treno, Claude, tutto quanto, scende dal treno, parte il gioco, dopo due minuti mio fratello fa, ma fa schifo. Perché? Perché gli devo dire io cosa fare? Perché io gli devo dire attacca e lui attacca e non mi fa attaccare? Perché non sono io a muovere il personaggio? Il concetto di JRPG non era insito all'epoca, no, mio fratello, che lui era un brutto tipo da sala giochi, da Street Fighter, da Mortal Kombat, da questi tipi di giochi qui. E quindi l'ho preso e lo riportò. E io, essendo dieci anni più piccolo di mio fratello, all'epoca avevo undici anni, pensai, ah, è vero, sono brutto, perché mio fratello più grande aveva detto che erano brutti, no, i giochi di ruolo. E che nel 2001, un mio compagno di classe non mi comincia a provare quello che poi è diventato il mio gioco preferito della mia vita, che è Legend of Dragoon, che ho finito, credo, sei o sette volte su qualunque piattaforma. L'ho finito su Play 1, l'ho finito su PSP, l'ho finito su Play 5, quando l'hanno messo a rimastere, al 110%, perché ha sbloccato un qualunque piattaforma. Vabbè, è il mio gioco preferito, comunque, ed è un gioco di combattimento a turni. Tuttora sto giocando, aspetta, com'è che... Tuttora sto giocando Sea of Stars su PlayStation 5, bellissimo, grafica. Retro, in pixel, combattimento a turni, queste cose ci vado a matto. Ah, vedi. E, tra l'altro, da quello che ricordo, da chiacchierate nel passato, Maurizio, da bambino, era uno di quei ragazzi che craccava e moddava tutto. Io craccavo i PSP. Questa battuta la ricordo molto precisamente. Come dei miei amici, tutte quelle che moddavo tutto. Ora sono l'antipirateria, per eccellenza. Meno male, meno male. Ora sono quello che se mi taggano in una storia, gli dico, dove lo stai guardando? Ah, lo sto guardando su questo sito, ho fatto, io non ti condividerò mai. Perché ho capito, cioè, ho capito come funziona, ho capito cosa c'è dietro, e, ma soprattutto, una cosa che secondo me non si arriva a capire, e lì è quella vera, del non guardare l'anime in streaming illegale, a parte che ci sono tanti siti legali e gratuiti, tipo Gran Cirola è gratuito, VVVid non so se esiste ancora, ma era gratuito con la pubblicità. Non guardare. Perché? E la risposta risolve, ma io lo voglio vedere. Sì, ma non è pane. Cioè, non è un bene primario. E quindi tu, siccome lo vuoi, devi sentirti in diritto di ottenerlo a qualunque costo. Perché se tu mi dici, io rubo il pane perché ho fame, tesoro mio, ti regalo un forno, cioè, compro tutto il pane che c'è e te lo regalo. Ma se tu mi dici, no, io pirato le cose, le serie, i film, perché voglio vederle, a volte ti dico, non è un bene di prima necessità. Se vuoi vederla, invece di comprarti un pacchetto di sigarette al giorno, che in un mese sono 150 euro, ti paghi tutte le piattaforme. Se poi sei piccolo e non fumi, o se non fumi, comunque c'è sempre il modo. di trovarle. E ripeto, Crunchyroll è gratuito, con un'efficacità. Che senso ha? No, no, io sono d'accordissimo con te, però per spezzare una lancia nei nostri confronti di quando eravamo giovani in Genue. C'è da dire che erano anche altri tempi, no, Maurizio? Perché io mi ricordo, ad esempio, le prime volte che le prime PlayStation venivano modificate, c'era proprio fuori scritto dal negozio un cartello enorme che ho scritto qui si vendono PlayStation modificate. Anche i giochi masterizzati. Anche i giochi, quindi erano altri tempi. Erano altri tempi. C'è da dire che adesso sui videogiochi è molto più difficile. Io adesso, vabbè, ho preso il discorso anime-serie tv, è pur vero che all'epoca nostra se volevi vedere una serie, io Friends me lo vedevo a puntate su Rai 2, per dire, le serie Scrubs lo vedevo su MTV, però adesso che hai veramente la possibilità di accedere a qualunque piattaforma o qualunque serie, non ha senso. Non ha senso. Perché poi non puoi venirti a lamentare. Perché sta serie non esce? Perché questa è stata cancellata? Perché? Perché? Perché se uno, perché ognuno pensa, tanto lo faccio solo io. E no. E no. Non lo fai. solo tu. Vi dico, sinceramente, che la seconda stagione di Reborn, Tutor Hitman Reborn, l'abbiamo doppiata quest'anno, dopo più di dieci anni dall'ultima volta, dall'ultima puntata. Perché Reborn è stata una delle serie più piratate online, come anime, e quindi non davano i fondi per doppiarla, per esempio. Certo. è raro, però tu comunque hai regato un danno a delle persone, cioè tu reghi un danno a delle persone che lavorano. Certo. Questa purtroppo non entra nella mentalità. Non ce la fanno. Perché? Io, ma io lo voglio. Sì, sì, no, no, ma sono d'accordissimo con questo discorso. Poi, come dicevi te, all'epoca nostra era diverso perché poi ti perdevi una serie, cioè non avevamo questa disponibilità di servizi legali che ci consentivano di guardarci quello che volevamo, quando volevamo, quei tempi che volevamo. C'erano, mi ricordo, Dottor House, Dottor House, se tu ti perdevi la puntata del giovedì sera, cioè avevi solo la domenica sera per recuperarla e poi era andata, cioè non c'era alcun tipo di modo persa per sempre. Il più forte del mondo, il primo film di Dragon Ball Z, ce lo siamo comprati in tre alle medie, in VHS per vederlo. Ma qual era? Quello di Broly? No, il più forte del mondo è quella del robot che vuole prendere il cervello di Goku. No, vuole il corpo di Goku. È quella dove usa il Kaioken la prima volta, ma in tre, ce lo siamo comprati perché costava 24 mila lire quella del mio cassetto. Eh sì, cavolo. Quindi, è vero, adesso avete accesso a tutto, ma avere accesso a tutto non vuol dire che devi andare a regare un danno a chi, insomma, a chi ci ha lavorato. Avere accesso a tutto non vuol dire che tutto sia accessibile gratuitamente, cioè alcune cose vanno... Ma non deve essere accessibile perché poi questi non lo sanno, perché o non lo sanno e gliene prega niente, perché nel momento in cui tu vai su un sito pirata a vederti la serie, tu ti segui sulla serie, no, mi guardo la serie gratis, intanto il cicciopallino che fa il webmaster che è il proprietario del sito, le fa un botto dei soldi alle spalle tue. Sì, sì. Spanky, non si pirata la pronostia di destra perché sto sbagliando. sarei curioso di sapere i tuoi due momenti, cioè il momento in cui c'è stato il colpo di fulmine con la recitazione e quindi col doppiaggio e il momento del cambio di passo, ossia dove hai detto cavolo, questa cosa mi piace tantissimo, magari da questo punto in poi può diventare un lavoro. Ecco, c'hai questi due momenti ben focalizzati? Il primo sì, il primo ce l'ho, il secondo no, perché per me sono insieme perché nel momento in cui l'ho realizzato io non volevo fare altro. Ah, ok. Ok, quindi è uno stesso momento che racchiude i due. Lo racconto spesso questa storia, praticamente avevo sette anni, stavo guardando Il mistero della pietra azzurra e quando parla Can il mio primo pensiero è stato ma questo c'è la voce di quello con gli occhiali che presenta Ciao Ciao Mattina, che poi era Davide Garbolino. e ho detto vuoi vedere che le persone danno la voce ai cartoni? E lì basta, e lì è finita. Lì per me è finita. Ho detto ok, io da grande faccio la voce dei cartoni, punto. Non c'erano altre strade, altre vie, altre cose. Poi tutto quanto che ho fatto, a parte che ho la seppola, in questo modo, fino ai vent'anni, ce l'ho avuto, la seppola, la cagg, la roba proprio storto. Ah, mi dà fastidio. Però tutto ciò che ho fatto poi è stato tutto propedeutico in funzione di quello che avrei fatto. Cioè in classe alzavo la mano quando c'era da leggere, volevo leggere io. La dizione l'ho imparata guardando la televisione. Sono abbastanza autodidatta io con la dizione. Poi vabbè, ovvio, meglio studiare e colmi alcune lacune. Però non ho mai detto ah guarda mi piace, potrebbe diventare un lavoro. Cioè no, per me era già così. Cioè nel momento in cui avevo deciso sarebbe stato così, punto e basta. e mi ricordo che quando ho realizzato che per farlo diventare un lavoro che ti permette di mangiare ci vuole parecchio tempo perché essendo lavoratore autonome e lavorando a convocazione viene da sé che un guadagnutale da poterti permettere di pagarti un affitto e tutto il resto arriva dopo un po' e dopo una serie di lavori e anche di essere e anche quando sei un po' più conosciuto, più esperto e lavori di più. Più lavori, più guadagni, meno lavori, meno guadagni. Lavoratore autonomo funziona così. Però sì, cioè per me è stato tutto insieme. Ok, vedi, quindi proprio dal momento in cui hai realizzato che quella era una figata e sarebbe diventato il tuo lavoro per te già era, già è ripartito nel mood e nell'ottica del ok diventerà il mio lavoro. Bello? Assolutamente sì. Assolutamente sì perché era quello che volevo fare. Cioè ho cominciato a riconoscere i personaggi, ho cominciato a riconoscere le voci, io le ho cominciate a collegare. Comprai un albo una volta in fumetteria di cui non ricordo adesso il nome dove alla fine trovai delle interviste ai doppiatori quindi per me era oro colato una cosa del genere. E una passione trainante praticamente. e ricordo ancora sì 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 ricordo ancora che una delle prime cose che feci quando quando misi la 56k a casa e avevo 11 anni 12 forse no 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 qualcosina in più qualcosina in più e comunque l'adolescente fu cercare scuole di doppiato. quello che a volte io mi chiedo c'è un sacco di gente che mi scrive mi dice Maurizio vorrei fare il doppiatore come faccio? poi passa una settimana e mi riscrive mi dice Mauri mi puoi rispondere? cioè aspetta tu in una settimana hai fatto un cazzo? cioè tu in una settimana non ti sei attivato per cercare? tu chiedi e aspetti che ti venga detto cosa fare o come farlo? a volte io mi chiedo ma come ho fatto io con la 50 day che dovevo occupare il telefono di casa e andare a manovella prima di caricare un sito e adesso che hai la possibilità di accedere all'universo perché Google ti dà la possibilità di accedere a tutto a qualunque scuola a qualunque prezzo ti dai numeri di telefono i chiami ci sono tutte le scuole di doppiaggio che sono online ti fanno vedere anche la pagina di chi è uscito da quella scuola c'è tutto ho fatto anche io un video sul canale dove spiego tutto l'iter c'è tutto pronto e comunque devi chiedere a me ma non perché io non ti voglia aiutare io non ti voglia rispondere ma c'è tutto hai tutto manca lo spirito di iniziativa la vera iniziativa io voglio fare sai io voglio fare il doppiatore è il mio sogno non è il tuo sogno se fosse il tuo sogno staresti lavorando per farlo staresti leggendo a voce alta staresti cercando dell'informazione non lo vorresti a dire se è il mio sogno come devo fare bel sogno cercatelo come devi fare se è un sogno certo se tu mi dici sai Maurizio molti è diventato il mio sogno grazie a te perché mi sono appassionato bella in bocca al lupo dai spacca tutto sfondali vediamoci in sala porca miseria mi è successo mi è successo mi è successo con un ragazzo durante il doppiaggio di Overlord che è venuto e mi fa maori io doppio lui dito ah che figo bello e sai io ti avevo scritto una volta dicendoti che volevo fare il doppio te l'ho fatto a scuola di doppiaggio ho fatto porca puttana che bello dai grande siamo hai visto siamo in una lavorazione insieme che bello e io lo riconosco questa cosa perché per me è lo stesso perché io quando ho iniziato e mi leggevo le interviste dei doppiatori e tutto quanto e mi andavo a vedere le conferenze alle fiere del fumetto di Patrizio Prata di Simone D'Andrea di Manuela Pacotto e mi vedevo le conferenze per capire per imparare per fare le domande no e tutto quanto e adesso sono amici colleghi che a cui voglio un bene dell'anima e sono spesso anche ospiti da me sul canale e proprio qualche mese fa durante il doppiaggio di Overlord che ha diretto Patrizio Prata abbiamo realizzato che ci conosciamo da vent'anni cioè a marzo perché io al Cartoon Mix del 2003 vestito da Pell di One Piece perché appena non uscito alla basta io facevo il cosplay di Pell gli ruppi e le vale tutto il tempo Patrizio Prata perché all'epoca oltre Zoro stava andando su MTV Sayuki no e lui faceva ciò a Kai che è figata e non è che fai il video col telefono e non è che c'avevo il Nokia che fai il video la foto io ero felice quando le ho sviluppate le foto perché c'è un rullino quella volta quindi insomma io sono sempre stato addosso a tutto questo e pensare di essermi poi ritrovato in sala con loro o comunque perli come colleghi ad alcuni addirittura perli diretti come oggi oggi no cioè nel senso settembre dell'anno scorso ho diretto QTVA negli universe per gli amato video e poter dirigere in sala Mario Scarabelli Marco Bazzarotti tutta una serie di colleghi che una piccolino io mi sentivo in televisione eccetera eccetera averli potuti dirigere addirittura per me era è stata un'emozione molto forte una soddisfazione per questo ti dico che ho avuto mille evoluzioni ho avuto mille cose nel mio lavoro nella mia persona che bello è illuminante quello che dici ed è giustissimo perché molto spesso si tende a dire ok ci adeggiamo sugli allori quello è voglio fare questo però aspetto che mi si crea un'occasione quando secondo me l'occasione non va aspettata che si crea ma in tutto non solo nel doppiaggio ovviamente in qualunque cosa cioè se sai che vuoi qualcosa incamminati magari poi si avvicina però non intanto ti sei avviato certo e poi anche con cognizioni di causa perché comunque dovresti avere una strategia un pensare a quello che devi fare a chi contattare a come contattarlo quando mi sono trasferito io a Milano l'11 gennaio del 2007 l'ho fatto consapevole che poi a fine gennaio sarebbe iniziato il corso di edizione del CTI il centro teatro attivo che ho fatto io avevo lavorato a Media World a Firenze a Giglio nel centro commerciale e mi ero messo da parte un po' di soldi quindi sono salito su mi sono pagato il corso tutto quanto avevo vent'anni no? li ho finiti subito io quei soldi quindi all'estate sono tornato a casa e mi ha dato una mano mia sorella a prendere l'affitto di un'altra casa insieme ad altri due ragazzi tornato su ho lavorato da footlocker ho fatto il part time da footlocker da ottobre 2007 ad aprile 2008 nel mentre lavoravo da footlocker frequentavo il CTA e andavo a assistere ai turni avevo perso 10 kg non mi si vedeva più perché mi ero preso e mi ero dedicato al 150% solo al doppiaggio quindi capita che iniziò a fare qualche turno di brusio di qua nei documentari nelle cosine cose piccole arriva aprile 2008 dove il canale tv di all music che non esiste più adesso è DJ TV vero è che era il concorrente di MTV giusto che all'epoca c'era un MTV all music prevalentemente no era il concorrente di MTV esatto ok cosa succede ad aprile del 2008 cercano la voce del canale voce di canale che fa gli annunci che fa i claim andiamo in diversi che alcuni avevano appena iniziato alcuni no tanto sta che vinco sto provino vinco sto provino nel 2008 ho detto oddio e adesso che faccio vado al colloquio perché ho vinto il provino e loro mi dicono guarda Maurizio non arriviamo in buone acque ti possiamo dare questa cifra un'ora il mercoledì mattina un'ora a settimana io li guardo e ho detto ma siete seri? mi davano il doppio di cui mi dava footlogger praticamente lavorando a 30 ore a settimana alle part time e ho detto va bene va bene non vi preoccupate va benissimo stai vado da footlogger stretta di mano grazie mille di tutto buon lavoro io mi sono licenziato da MediaWorld ora lo sconsiglierei ma io mi sono licenziato da MediaWorld a un contratto a tempo indeterminato e da footlogger a un contratto a tempo indeterminato però sono andato lì gli ho detto grazie ciao mi prendevo quella cifra mensile che era abbastanza cospicua e mi permetteva di pagarmi l'affitto assistere un'ora alla settimana quindi avevo tutto il tempo di studiare assistere ai turni fare provini eccetera eccetera e mi ero anche riscritto in palestra perché potevo permettermi insomma e lì è iniziata poi l'ascesa tra virgolette perché poi a fine 2008 ho avuto il mio primo personaggio grandicello che è stato Marcel di Yu-Gi-Oh! GX che parlava con l'accento francese una cosa difficile cioè per me all'epoca era difficile e poi nel 2009 è arrivato Sai di Naruto insomma è iniziata il crescendo che mi ha permesso poi di continuare a fare quello che faccio nel miglior modo possibile insomma ho avuto la possibilità appunto di fare tante esperienze in quel tempo lì Una grande determinazione però anche Maurizio perché comunque per perseguire il tuo sogno molto spesso è necessario no? Fare delle scelte possono essere anche rischiose però Ti faccio un esempio l'anno dopo l'estate del 2009 vedo Patrizio Prata a un turno allo storico di Merak e mi fa Sai Mau lui era voce di Disney Channel no? Lo è stato poi per tante ma apre un nuovo canale che si chiama Disney XD e cercavano una voce di canale io non ho fatto il tuo nome perché sei già voce di All Music io lo guardo e ho detto faglielo lo stesso faglielo lo stesso perché All Music mi scade a luglio gli ho detto io non amo il contrario vado a fare il provino da Disney e mi dicono ma tu sei proprio vincolato chiamo il Music e gli dico guardate la situazione è questa e loro mi dicono accetta qua non sappiamo neanche se domani mi trovo la volta perché stava chiudendo infatti poi è diventata DJ TV quindi contrattualmente io sono stato voce di due canali perché era permesso durante il luglio del 2009 era permesso perché a luglio 2009 andavano ancora in onda i promo di All Music ma io avevo iniziato a incidere tutti i promo di Disney XD che sarebbe partito il 29 settembre quindi a livello di diritti audio televisivi non mi accavallavo cioè non sono mai andato in onda contemporaneamente perché dal momento in cui è partito Disney XD non c'era più All Music ma io quel mese di luglio 2009 avevo due contratti che legalmente potevo fare perché appunto non subentrava il diritto televisivo dell'audiovisivo e poi sono stato voce di Disney XD fino al 2019 per dieci anni che belle soddisfazione la determinazione è poi un tratto quasi distintivo io appunto mi ricordo parecchi anni fa che la prima volta che tra l'altro ho incontrato Maurizio a Civitavecchia al centro commerciale era un evento con Maurizio Greta Menchi che poi non è venuta perché ha fatto una cosa con i capelli cambi i capelli e una pagina che si chiama video comici di tua sorella ma non mi ricordo come si chiama lei sai che forse sì sì certo che sì certo che sì certo che sì e quando mi hanno regalato il pollo di gomma sì e l'insalata è la giornata di quella famosa battuta non vedo l'oreo di fare questa cosa col tubetto di oreo in mano ma io dico minchiate costantemente sì sì l'avete visto anche la cosa bella era questo che fondamentalmente eravamo tutti lì tutti i piccoli creatori dei contenuti che stavano facendo cose e e Maurizio ha dato questo consiglio poi a tutti che era effettivamente come dire no cioè scoprire l'acqua calda in realtà no perché tutti pensavano a fare le cose nel loro piccolo orticello no cioè mi facevo il mio contenutino a posto e e lui appunto ci disse questo disse se se voi volete fare questa cosa cioè se voi volete veramente lavorare con i contenuti eh concentratevi bene concentratevi appieno avete ognuno un un ambito diverso ma studiate studiate anche chi lo fa chi lo fa meglio di voi imparate come migliorare quello che fate e soprattutto siate critici cosa che molto spesso uno perde che dice abbe ho fatto io sto contenuto è figo e invece è stato un consiglio secondo me molto utile che poi tanti hanno seguito insomma eh io finché è durato quel progetto ho seguito ehm ma ma questo è il bello cioè almeno io nelle situazioni in cui ti ho incontrato da quell'anno poi ti ho incontrato tutti gli anni quindi è stato un percorso assolutamente sì sei sempre stato molto disponibile con le persone ma anche molto onesto ah sempre quindi è ripeto il fatto della determinazione non è una cosa che hai sposato solamente nel tuo progetto ma è una cosa che hai cercato di inculcare poi alcune volte ci si riesce alcune volte no anche negli altri che ti chiedevano un consiglio ed è una una cosa figa insomma non è una cosa da tutti i giorni ti ringrazio guarda io penso che l'onestà sia la base perché tutti quelli che vengono se io avessi detto sì è vero dai grande a tutti quelli che mi hanno scritto mi hanno detto voglio fare il doppiatore adesso ci servirà più un'altra nazione per loro sono diventati io la risposta mia è sempre stata sincera ho sempre detto raga studiate come dei maledetti e le botte si prendono non è che il primo giorno che fai il doppiatore sei diventato un doppiatore fai un turno poi l'altro turno chissà quando lo rifai e poi arriva a farne magari due al mese tre al mese che sono pochi soldi poi arrivi a farne magari due a settimana wow ma prima di arrivare di arrivare a farne 8 9 10 15 a settimana ma ci vogliono 10 anni non è che ce ne vogliono due o tre insomma e molti non hanno questa pazienza anzi al contrario adesso la gente ha fretta adesso la gente ha veramente tanta fretta di ottenere subito quello che vuole ma non è così non funziona così tanto dal tempo che ci vuole non si scappa perché fortunatamente è un'eccellenza quindi o sei bravo bravo sì beh io il mio primo protagonista al cinema l'ho fatto nel 2017 18 il primo Shazam nel 2017 il mio primo protagonista al cinema cioè 10 anni dopo che mi erano trasferito per fare il doppiatore non l'anno dopo capito quindi a me la gente che dice Maurizio sai io faccio doppiaggio da un po' mi piacerebbe doppiare questo personaggio in questa serie no no ma perché pensi perché penso perché penso che no un conto è dire sei giusto o non sei giusto un conto è dire vuol dire vuol reggere un turno di 200 righe reggere turni da 200 righe ci vuole esperienza ci vuole capacità ci vuole metodo ci vuole tecnica ci vuole e tuttora io sto imparando perché per me tutti i turni di One Piece per come abbiamo impostato Do Flamingo con Claudio Moneta sono tutti turni dove io imparo imparo a respirare un'altra volta imparo a fare le pause un'altra volta perché poi potete idolatrare il doppiaggio giapponese quanto cazzo vi pare ma a loro del sync non gliene frega niente perché se l'animazione fa una pausa il giapponese continua a parlare e viceversa noi no noi rispettiamo il sync deve essere credibile un doppiaggio poi potete dire quello che volete non mi interessa per me chi denigra il doppiaggio c'è per dirti ora settimana scorsa la pagina di Mediaset ha fatto il post tornano le puntate di One Piece doppiate in italiano la gente sotto che schifo io lo guardo in italiano ti faccio l'esempio perché queste persone hanno un ritardo gravissimo che non è un ritardo è una gravidanza praticamente perché prendono tutto sul personale lo fa Ricky Gervaisi in un suo spettacolo dove dice è come se io prendessi andassi a me andassi che ne sono in piazza a New York trovo un cartello che dice lezioni di chitarra stacco il numero gli telefono e dico io non la voglio imparare la chitarra è la stessa cosa chi ti sta dicendo di guardarlo chi ti sta dicendo qualcos'altro Mediaset dà la notizia che escono le puntate che tu mi venga a scrivere sotto il doppiaggio italiano fa schifo non fa altro che renderti un disadattato mentale ma non perché a te non piace può non piacerti è lecito ma il dover ribadire un concetto negativo io cito sempre Bambi il primo doppiaggio di Bambi no? la madre di Tamburino che dice Tamburino cosa ti ha detto stamattina tuo padre quando non sai che cosa dire è meglio che non dici nulla piuttosto stai zitto io se vedo una cosa che non mi piace scorrendo Instagram vado avanti certo questa cosa non mi piace che ci hai guadagnato spremi che inutili guarda veramente è solo ti danneggia ti impedisce di guardarlo in giapponese ti riconosci in questa descrizione Spanky cioè che scrivo i commenti Spanky è la prima originale assolutamente la prima è quando non gli dice qualcosa va sotto non è vero proprio anzi io scrivo e dico solo cose belle e questo anche mi penalizza perché dovrei dire anche cose brutte io potrei tirare fuori le cose negative a meno che non colpiscano la vostra morale ma non penso che il doppiaggio italiano possa colpire la morale di qualcuno no non credo io però Spanky potrei tirare fuori usate quelle energie per delle cose costruttive lamentatevi di altre cose che vi danneggiano non di cose che non non vi toccano sono d'accordissimo che vuoi tirare fuori tanto sei falsa potrei tirare fuori tipo 45 screenshot di te che dici cattiveri a caso ma non è vero Maurizio Spanky lo fa Spanky lo fa meno male Andrea che anche tu dici le verità no perché Maurizio Spanky lo fa che quando ti è davanti ti viene a fare brutta la tua no c'è questo mezzo cosplay da Timmy Turner però poi mi dicono queste cose io ci rimango male Timmy Turner va bene allora Andrea anzi facciamo iniziare Spanky poi Andrea grazie Spanky senti ma tu hai fatto due domande quindi le faccio anche io fai quello che ti pare Spanky sentiti libera al massimo grazie 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 allora io volevo chiederti due cose la prima so perché ho visto anche nei tuoi vecchi format poi ce l'hai anche raccontato nel pre-live che viaggi viaggi molto quindi mi mi interessava sapere c'è un viaggio anzi qual è stato perché sicuramente ci sarà il viaggio che ti ha lasciato di più che ti ha dato è la prima volta che sono andato in Giappone ah in Giappone la prima volta di ciliegi in fiore sono stato quattro volte in Giappone no non era periodo di ciliegi ti dirò la prima volta poi ci sono tornato in periodo di ciliegi la prima volta che sono stato in Giappone è stato il 2009 avevo ci ho fatto il compleanno tra l'altro penso ho fatto ho compiuto i 23 e i 33 anni in Giappone wow l'hai fatto apposta no è stata perché nel 2019 andai perché Ambra aveva una collaborazione con un sito giapponese di cosplay e quindi ci ospitarono e capitammo lì nella data del più compleanno però la prima volta che sono stato in Giappone per me è stato è fantastico mi guardavo intorno e dicevo ma siamo sulla terra poi si è sdoganato un po' ma all'epoca non avevi tutti tutti i siti tutte le pagine non c'era Instagram non c'era Facebook e diceva vabbè vedo i video del Giappone no che vedi non vedi niente cioè io compravo Benchio Benchio era una rivista che usciva in edicola che costava la prima la prima pagare 14.900 lire col cd e ti dava le novità sul Giappone ti faceva vedere gli spot giapponesi qualche foto del Giappone ma che volevi cioè quindi è stato così quel viaggio è stato incredibile in tutto quello che è successo è successo di tutto vomitato in un taxi ubriaco stavo per chiedere cose che si possono raccontare fatto quasi a botte con un giapponese in un bagno una scena alla Tokyo Revenger te lo giuro in un bagno il problema il problema è che io non ero così perché comunque ho 22 anni però insomma ero atletico diciamo quindi c'erano delle differenze di fisiche vabbè no è successivamente di tutto quell'anno è stato bellissimo il Giappone vedi a sentirlo parlare il Giappone a me mi rode tantissimo perché avevo prenotato il Giappone mi ero mi ero deciso ho detto ok ci vado quindi avevo prenotato tutto da Kyoto il viaggio poi io sono uno di quelli che non è che parte all'avventura quindi deve aver prenotato probabilmente qualsiasi cosa dopo spostamento e è stato è veramente l'anno pensate la sfiga dello tsunami non lo cioè non lo fa più no tra l'altro c'è c'è il precedente del viaggio se non ci sono tsunami io ci torno a marzo per la quinta volta guarda se prenota Mauro i biglietti li ho già presi quindi non prenoto no non prenoto anche perché c'è un precedente molto pericoloso che conferma quello che dice Andrea che ho prenotato anche Londra e c'è fu il boom dell'influenza su Ina so se è pericolato però avevi prenotato anche poco prima del covid per caso no no però Maurizio ho fatto anche tanti altri viaggi dove non è successo niente però queste due cose purtroppo adesso avevo il Giappone prenotato ho dovuto virare poi sul Canada che ho fatto è stato un bel viaggio però ovviamente il Giappone mi è rimasto qua capito? è rimasto il Giappone qua avevo già pagato tutto prenotato e poi adesso insomma è difficile no ritagliare quel tempo necessario che di qua bisogna anche per no ammortizzare il viaggio guardartela bene non fare quella toccata e fuga che ti lascerebbe con la marombocca certo dall'altra parte del mondo non si possono fare toccate e fuga quindi sentir parlare Maurizio del suo bel viaggio è un colpo al cuore per me tutti e quattro tutti e quattro il dito nella piaga non lo vedi che sono già morto e tu niente eh niente sì sono curioso della seconda domanda risposta sì la seconda domanda è un po' più seria volevo sapere qual è stato lo scoglio più grande che hai dovuto superare a livello professionale nella vita come vuoi se si può raccontare se c'è stato eh magari invece tutto in discesa no eh lo sapevo non c'è stata in discesa ma ti dirò a livello professionale lo scoglio più grande che ho dovuto superare è stato la mancanza di casa cioè il voler tornare a casa ma non voler tornare a casa perché quando ero quando persi quando persi dieci chili e lavoravo da una parte facevo poi andavo a lezione poi andavo a assistere ai turni poi facevo quello e tornavo a casa e dovevo cucinare dovevo fare tutte le cose io da solo con mia madre che mi chiamava tutti i giorni mi diceva però se non ce la fai torna eh non ti preoccupare però non potevo cioè mi ero fatto una promessa cioè mi 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 poi sono fatto così io se inizio una cosa allora c'è una frase di Celentano che io ho tatuata nel cuore ok concerto del 1992 ok va in onda in Rai va in onda in Rai il concerto del 1992 Celentano Celentano si ferma si siede e fa è normale che se io faccio uscire un album penso che io sono primo e gli altri neanche secondi e il concetto è quello io sono uno che ogni volta che ha cominciato a fare qualcosa non puntava al checkpoint puntava al platino io ho sempre puntato al platino in tutto quello che ho iniziato a fare e in tutto quello che ho fatto ho sempre puntato al top perché le vie di mezzo non ci arrivano tutti a metà pure chi non ha il potenziale ma si impegna al 2000% arriva a metà ma io non mi accontento di arrivare a metà mi sono mai accontentato scusate questo tintigarello è veramente tranquilla spanchi almeno adesso non hai fatto quella scena impietosa ti priva con un mutato spento e ti sei contorta tutta cosa anche brutta da vedere sembravi tipo mia nonna che ha veramente un certo tanno ecco tu sei un caso in cui hai gli anni che hai cioè nel senso te li porti così come te li devi portare io ho gli anni che bella situazione la smettete in chat cioè siete proprio brutte persone stanno a ironizzare sulla cosa di me che viaggio le agenzie di viaggio quando vedono arrivare il man mettono il cartello chiuso per ferie e non vi ha raccontato di quella volta dell'unico uragano della storia che sia partito da new york in cui doveva partire lui è proprio brutte persone non vi parlo più comunque giusti bravi Andrea Andrea c'è lo spazio per te poi andiamo alla domanda di social partners e poi ciao sì allora io volevo chiedere prima di tutto a morizio la mia domanda ormai quasi classica ovvero se dovessi scegliere identificare e scegliere un unico oggetto che sia anche in grado di rappresentarti quale sarebbe e perché il microfono perché il microfono perché amplifica perché hai presente Olli che dice il mio miglior amico è il pallone e io il mio miglior amico è il microfono il microfono perché ha la funzione di di rendere immortali ci sono tante voci che non non sono più tra noi ma sono immortali le continueremo a sentire per sempre anche se non ci sono quindi il microfono ti permette di lasciare un messaggio indelebile a chiunque oggi domani dopo domani che quando non ci sei più allo stesso tempo amplifica cioè fa quello cioè il microfono vabbè ovviamente è la base ma che poi l'incisione va alle casse e parla alle folle che è una cosa che io ho sempre fatto tramite il canale tramite i miei social tramite alle fiere lo sai quando parlo alla gente e così quindi il microfono se io dovessi identificare un oggetto sarei il microfono poi mi piace usarlo il microfono perché un conto è fare un conto è la voce un conto è la tua voce puoi fare le voce le voce le voce fai il paperino che è quello che vuoi ma se sai usarlo il microfono puoi fare il triplo delle cose dalle distanze il disassarti l'emissione puoi fare puoi essere mille cose diverse con il microfono sei soddisfatto Andrea di questo oggetto sì è una nuova risposta perché fino adesso nessuno ha risposto al microfono quindi è una nuova cosa che mi insegno ti date i doppiatori esatto sì sì poi pensa a me lasciò perplesso tipo Acerbo quando ci disse il mio è l'agenda perché lui è una persona che segna tutto che conserva tutto non me l'aspettavo quindi è bello il bello di sta domanda è che fa vedere facchi diversi che cambia certo è sempre soggettiva ora so che la mia seconda domanda si porterà dietro Mauro e Spanchi che mi daranno dello stalker ma la realtà è che hai condiviso questa cosa adesso ricomincia perché ti inizia a fare qualche giorno fa quando ti ho incontrato quando ti ho incontrato quando ti ho incontrato quattro anni fa che eri vestito con la maglietta celeste con la maglietta di Dragon Ball esatto e stavi parlando spesso la maglietta di Dragon Ball vedi vedi no hai condiviso qualche giorno fa un tuo vecchio post dove tenevi in mano un vecchio Nokia e facevi appunto un discorso sul i social sul fatto che quasi ci perdiamo no all'interno di questo gioco che è il mondo social 2015 e mi ha colpito molto il commento che hai fatto su quella storia ovvero probabilmente ho fatto una scelta che oggi non avrei il coraggio di rifare quindi secondo te quanto è importante e quanto è influente per il Maurizio di oggi la sfera anche relativa ai social e a tutto quello che ne ruota attorno anche Whatsapp è un social dal mio punto di vista molte volte la gente vede al telefono e dice Morino sei sempre al telefono e magari sto parlando su Whatsapp con il commercialista con l'avvocato sto rispondendo a delle mail sto facendo contratti di lavoro sto pubblicando su Instagram sto rispondendo ai commenti per me il lavoro rispondere ai commenti pubblicare su Instagram fare le storie mettere i link nelle storie per me è il lavoro ci portavo anche una società facendo così sto controllando gli insight di Youtube sto mandando gli insight di Youtube a dei clienti ti giuro per e all'epoca aspetti due settimane con il Nokia bellissimo 2015 però potevo farlo potevo farlo adesso ho una società con Paolo c'è l'ammare con il mio socio che produce non soltanto per noi ma che gestisce anche altri canali anche altri creator e anche abbiamo lavorato anche per la televisione abbiamo prodotto per la televisione insomma per me adesso isolarmi dal mondo due settimane sarebbe sarebbe un sogno sai quest'estate mi sono visto con i miei amici di sempre giù al mio paese in Puglia amici di sempre che conosco da quando sono bambino da quando ero bambino purtroppo in realtà lo sono ancora da quando ero bambino però qua abbiamo detto ragazzi vi rendete conto che 30 anni fa quando eravamo 7 anni 25 30 anni fa insomma che eravamo bambini stavamo insieme giocavamo due mesi e mezzo all'anno perché a metà giugno finiva la scuola si scendeva al paese e si tornava a settembre cioè due mesi e mezzo all'anno noi stavamo insieme costantemente e ci siamo vi rendete conto che negli ultimi anni ci riusciamo a vedere forse quattro giorni per puzza quando va bene ci vediamo quattro giorni tutti che è impossibile più essere tutti che c'è i bambini che c'è che mi vede una parte che mi vede l'altra e questo mi ha fatto realizzare che io non faccio vacanze vere da boh eternità la mia vacanza più lunga degli ultimi dieci anni è stata la pandemia che sono stato sei mesi in casa tre mesi a casa ma il concetto della vacanza io non ce l'ho più da non so quanti anni cioè le mie ferie di quest'anno sono state dal 12 agosto che era sabato al 22 che era lunedì sono stati 10 giorni io poi perché l'11 e il 23 lavoravo ho ripreso a lavorare e così anche l'anno scorso e così anche l'anno prima sai cosa mi manca veramente tanto se io potessi anche il viaggio in Giappone anche se vai due settimane in Giappone con tutto il bene la meraviglia ma non è una vacanza che fai 15 chilometri al giorno ti alzi presto perché sei in Giappone porco tu e non puoi stare a letto quindi non è una vacanza ok a me manca non fare un cazzo mi manca cioè la mia vacanza ideale che spero di riuscire a fare un giorno sono non un mese perché mi conosco e mi nervosisco e ho bisogno di lavorare perché ormai sono fatto così ma due settimane di nulla facenza totale bellissimo un sogno magari al mare magari all'estero dove se esco dicono chi è questo? e io farei non farei altro che mangiare stare al mare ed allenarmi io se tu mi dici adesso mi dicessi Maurizio qual è il tuo sogno? il mio sogno è non fare niente per due settimane mangiare allenarmi e stare al mare basta sarebbe due partitine a Street Fighter proprio al mare il sabato il sabato sera due partitine a Street Fighter sì ma c'ho camminato in ufficio il Street Fighter quindi non c'è un gioco il Street Fighter fantastico beh sogno visibile da molti secondo me due settimane e nulla facenza l'ultima volta che ho fatto questa cosa la feci per obbligarmi nel 2016 era un periodo stressante a livello personale a livello lavorativo sotto tantissimi punti di vista me ne andai dieci giorni in Thailandia sull'isola di Koh Phangan dove non c'è niente la mattina c'erano i monaci con gli asini ve lo giuro quelle due settimane dieci giorni di niente è stato veramente così che bello le dieci giorni avevo conosciuto dei ragazzi con cui andavano in Vespa su una montagna dove ti spaccavano il cocco e ti mettevano la cannuccia e ti lo davano e c'era questa piscina a strapiongo sulle montagne e la sera ti vedevi il tramonto che sembrava Re Leone vedi vedi io sono stato scemo perché quando sono andato in Thailandia invece di andare nelle isle sono andato a Bangkok era un casino c'ho dormito una notte c'ho dormito una notte si è scappato si è scappato per andare a Koh Phangan dovevi prendere dei traghetti cioè era proprio è proprio sperduto sperdutissimo cioè considera che quando sono dovuto tornare io sono partito il giorno prima perché avevo preso il traghetto poi ho preso un aereo intero e poi sono ripartito per l'Italia l'aereo interno è bellissimo fatto da Giovanni Mucciaccia con la cosa eh quelli piccolini che traballi tutto che si stacca pure il sedile quelli con l'elichetta quelli con l'elica di elica sì che per partire per con il quelli che quando vedi che c'è qualcosa che non va lo rimettono con lo scotch sì 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 scudazzi e vai vi giuro l'hanno salito sull'aereo non toccavo con la testa ce ne stavo più mamma mia io poi c'ho il terrore di qua aerei non so come danno proprio l'idea che poi che poi di solito sti aerei fanno quei percorsi stranissimi tipo che sembra e va addosso a una montagna poi virano de colpo passano in che tu dici mauro ma tu soffri cioè tu soffri di vertigini eh se sto su 8000 metri e vedo strapiombo sì se non mi sbaglio c'è c'è un tragitto non so dove però non è molto distante che c'è un ponte lunghissimo e tu sotto hai il niente portogallo il niente ed è troppo tardi perché una volta è seriato lì è troppo tardi quindi l'hai fatto l'ho fatto quel ponte stavo terribile perché non c'è il pavimento c'è la grata stronzi cazzo mi piace la grata il ponte è a 175 metri di altezza eh per farti vabbè ho fatto un portogallo eh cioè è una cosa io ho pensato c'è ho amici che l'hanno fatto ho detto ah no no dobbiamo andare a provare ho fatto ma tu sei pazzo tu sei proprio fuori di testa io arrivo lì e rimango a terra ma che cosa fai tipo Aldo che era Aldo non posso né scendere né salire tu hai il centro del ponte scendere né salire esatto va bene allora prima di passare alla chat io ho una curiosità però Maurizio io sono uno troppo superstizioso cioè nel senso non tanto non tanto superstizioso però i miei riti i miei rituali tipo non so mi devo mettere il calzino destro poi il sinistro ecco io volevo sapere se tu avevi i tuoi rituali le tue abitudini o comunque un oggetto che porti sempre con te che reputi tipo forta fortuna perché ho visto non so anche i tuoi colleghi che tipo camminano al contrario prima di salire sul palco cose del genere esorcisti ho visto sono proceduti no io non ho routine movimenti o oggetti particolari vedi che fortuna così non sei vincolato a niente cioè nel senso no sono io nel senso nella mia testa insomma ok no volevo sapere se eri malato mentale tipo me oppure eri normale purtroppo no ma perché ho sede va bene dov'è? non sapevo che portasse sfiga superstiziosa vabbè adesso come fai? adesso sei una pratuta per la superstizione non è vero cioè io adesso ci credo adesso adesso non sarò superstizioso perché hai detto così adesso forzerò il non fare i miei gesti rituali proprio perché Maurizio e questo però ti porterà sfiga esatto mi porterà sfiga quindi è un circolo vizioso è un paradosso e scoppierai su te stesso come una bollicina da oggi da oggi Maurizio metterà prima il calzino destro e poi il sinistro e penserà almeno mentre lo fa non credo tutte le mattine tutte le mattine tutte le mattine bene Andrea domanda di social partners e poi andiamo alla chat ricordiamo come state facendo di evidenziare le domande così che io scorro e pesco a caso tra quelle che avete fatto quindi evidenziate che sono i punti canali prego Andrea ok allora Maurizio roba da doppiatori ti chiede potendo ricominciare la tua carriera da capo cambieresti qualcosa o rifaresti tutto come hai già fatto farei tutto uguale oh che bella sta risposta è una risposta che a noi piace parecchio è una risposta se cambi mezza cosa magari poi non facevo cose che ho fatto esatto ritorno al futuro insegna su sta cosa tutto uguale paro paro bello bene sai che c'è perché a me piace questa risposta perché vuol dire che sei arrivato ad un punto dove tu sei felice di quello che hai fatto e stai puntando sempre più in alto invece se cambieresti qualcosa implicitamente tu dici magari cambierei questo però metti in conto che cambieresti anche tutto il resto magari non saresti nel punto in cui sei oggi e quindi capito esatto di fondo c'è un insuccesso una sofferenza un qualcosa anche di negativo però può averti portato e messo nella condizione di performare al meglio per qualcos'altro che altrimenti non sarebbe mai capitato se non sarebbe mai capitato io che ne so esatto quindi esatto quindi mantenere quello che uno ha fatto se è soddisfatto insomma del punto io sono dell'idea che le cose arrivano quando devono arrivare forzare le cose non serve a niente ho iniziato a fare wrestling a 35 anni bene allora mettiamo il nostro bellissimo jingle che Andrea non piace però figo bellissimo dai balla vedi Maurizio che è entrato nel mood dai Andrea muovi almeno la testa ma Maurizio la sente solo stasera dai però ti fa venire in mente un po' quei cose beh devo essere onesto le prime magari 4-5 volte sì dopo 250 no devo essere onesto è vero perché questo è il nostro episodio live talks numero 250 c'è proprio cifra tonda bello che bello pure pari pari ecco ecco per me il volume deve essere sempre pari eh vedi che allora ce l'hai eh l'abbiamo trovato quindi il volume non può essere tipo a 19 il volume deve essere sempre pari no perché deve essere divisibile per due e deve essere equo se tu dividi qualcosa per due vuol dire che due persone sono contente tu considera che il mio nome è otto lettere il mio cognome è otto lettere e cinque si ripetono l'abbiamo trovata l'abbiamo trovata sono molto felice di questa cosa perché l'abbiamo trovata però nessuno l'ha chiesto a te spanchi tu è ancora più figo sei e sei sai che tu è ancora più figo sei e sei capito Andrea è ancora più figo sei e sei fa dodici e dodici sono sei lettere cioè proprio adesso me lo segno vedi e invece che c'è e invece tipo il mio che sono cinque e sette fa schifo è una proporzione tra l'altro due dispari proprio due dispari che ovviamente danno dispari madonna poi tre numeri primi proprio cinque sette e tre diciamo mamma mia mi credo che è arrivato lo tsunami è convode bastante vedi io pensavo di trovare qualcosa di figo invece no è proprio distrutto al massimo allora la prima domanda sette e cinque da fa dodici ho sbagliato non fa tre però ero talmente convincente io spesso frego i fonici così cambio le battute non se ne accorgono io se sarei caduto è come Aldo Giovanni e Giacomo 4 e 3 e 8 pure il direttore freghi perché c'ha il corione del direttore il segreto è dirlo molto spesso cercavi dai direttori ma dove l'hai letta sta cosa per favore leggi solo quello che c'è scritto no non te lo diranno mai allora la prima domanda che vedo è stata fatta proprio nel pre-live appena abbiamo acceso ed è di Tommy scrive buonasera a tutti vorrei chiedere a Maurizio sia sull'esperienza di Shazam che su Diego in The Umbrella Academy se può raccontarci qualcosa un aneddoto allora vi posso raccontare quando ho doppiato il primo Shazam fu un'esperienza molto bella molto bella perché mi ricordo che mi viene dato mi arriva un messaggio mi dicevo Maurizio ci sei per un trailer con Carlo Coso trailer e faccio ma che cos'è il film è Shazam farò un personaggino farò un personaggino che ne so arrivo lì e Carlo mi fa ho pensato a te per fare Shazam come c'è andato sì sì grosso è scemo però insomma dice avete delle caratteristiche molto simili secondo me sei giusto e quindi ti voglio far fare il trailer lì c'era la supervisor di Warner Bros che non mi conosceva poi insomma feci il trailer andò bene si fidò e feci il mio primo protagonista del cinema la cosa più assurda di Shazam è che l'ho doppiato sfasato cioè non l'ho doppiato in ordine ho fatto otto turni ed è come ho doppiato tipo sei due quattro otto sette uno tre cinque cioè non ho capito assolutamente niente di quando ho doppiato Shazam non l'ho fatto in ordine cronologico quindi non capivo nulla e la parte finale non aveva neanche gli effetti speciali quindi non capivo una sega io quando ho visto Shazam al cinema il primo e i fratelli si sono trasformati ho detto ma sono tutti colorati perché io lo vedevo in bianco e nero praticamente era un film di Chaplin niente appena finivano di parlare tutto si blerrava perché non si deve vedere niente mentre Umbrella Academy fu una cosa vinsi il provino su Diego feci il provino vinsi il provino su Diego e appunto si millantava questa serie tratta da un fumetto un po' così considerato che a novembre uscì a febbraio tantissimo tempo dopo ed ebbe talmente tanto successo che poi seconda e terza sono state fatte già annunciate proprio con la data d'uscita e si aspetta la quarta Diego sono molto affezionato a Diego perché è molto libero e poi nel provino per doppiare Diego lui parla di frullati proteici quindi erame la sono un po' come dire vista dal destino allora vado avanti buonasera Maurizio vorrei chiederti l'esperienza di Mihawk nel live action di One Piece proprio fresca fresca questa bella molto bella ti dirò mi ritrovo mi danno il turno e mi dicono non possiamo dirti che cos'è sappi solo che Marco il direttore ti vuole assolutamente vengo vengo a posta vengo a posta del Marco vado a Roma arrivo lì e mi fa facciamo One Piece a Milano quando facciamo lei version facciamo un certo Flamingo ma no ti faccio fare il Mihawk figo molto figo figo Mihawk mi piace mi è sempre piaciuto anche lì senza effetti speciali come ti metto con zero l'ho doppiato con i cavi che gli diranno non te lo giuro ed è stato molto bello perché come ho raccontato anche nel recente video di One Piece c'è questo aneddoto che mi ha fatto impazzire di Ori Koshi l'autore di Miro Academia che dieci anni fa mandò una sua fanarte di smoker a Oda e lui la pubblicò una fanarte di Ori Koshi poi è diventato uno dei mangaka più famosi del mondo perché Miro Academia fa parte delle serie a livello mondiale e quindi Ori Koshi diceva soltanto il fatto che il maestro Oda pubblicò la mia fanart mi ha reso indelebilmente per sempre parte di One Piece per me la stessa cosa con mille personaggi sì ne ho doppiati tanti però diciamo che adesso ma guarda che poi fa ridere questa cosa perché in Giappone è la stessa cosa ogni doppiatore è una doppia 5-6 solo che tutti devono fare il sommelier del doppiaggio e dicono che il doppiaggio giapponese è migliore perché in Italia One Piece ripetono le voci Mr. Tu e Frank hanno la stessa voce che quella del direttore di doppiaggio di One Piece per fare un esempio ma a me questi sommelier del doppiaggio sinceramente come tornando al discorso di prima dovrebbero stare ziti ma quindi sono sono indelebilmente nell'anime anche se solo per l'Italia e nel live action anche se solo per l'Italia parte di One Piece quindi mi ha reso molto felice nel live action ormai nell'anime ormai non solo per l'Italia dato che è andato virale un TikTok dove rido come Doflamingo e ho avuto tanti apprezzamenti dall'estero addirittura questa assurda ero in Irlanda questi giorni ho fatto una storia mi ha scritto un tizio giapponese che sta in Irlanda all'ambasciata di Tokyo di giapponese dicendomi ah ma sei a Dublino io sono un fan del tuo Doflamingo bellissimo cavolo che poi ho tutto il bene doppiatore giapponese di Doflamingo ha più di 60 anni Doflamingo ne ha 39 nel senso io ne ho 37 come voce poi c'è c'è qualcos'altro che ti lega particolarmente no ho visto nel video citavi una cosa specifica che è successa all'anteprima durante l'anteprima durante l'anteprima di Guampis a Milano che ho presentato io parte questo video messaggio di Oda dove ovviamente non si vede c'è il lumacofono e Oda dice sei pronto Maurizio Sanno ma tu non lo sapevi in anticipo sai qual è il problema lo sapevo mi avevano detto prima tu sappi che succederà una cosa ha fatto no non mi potete dire così perché io vabbè te lo diciamo ti saluta Oda e mi sono messo a piangere altre volte poi durante la presentazione parte questo messaggio e io vabbè mi sono stoppato praticamente ho gli occhi lucidi adesso e la prima cosa che ho detto a Netflix ho detto voi questo video me lo dovete mandare per forza infatti io ce l'ho salvato in un'altra definizione una volta al giorno me lo metto e me lo guardo che poi si che è un po' come quando ho incontrato Araki io ho incontrato Araki due volte in vita mia la prima gli ho scoppiato a piangere in faccia la prima gli ho scoppiato a piangere in faccia la seconda volta mi ha chiesto lui la foto ma ci possiamo fare una foto ho fatto a me maestro tutti quelli che vuole no è bello è bellissimo per queste cose che capitano quindi si cioè non solo ecco Oda sa chi sono e mi ha saldato in un video sono nel live action sono nell'anime ho tutto flamingo tatuato sulla gamba bellissimo cavolo cavolo quindi insomma per quello ti dico io non cambierei niente anche soltanto per queste piccole piccole tra virgolette cose cambiando rischierei di non averle più e non esiste io mi tengo stretto tutte queste piccole cose piccole ma poi grandi ok allora Jack bomba maurizio vorrei chiederti la tua top 10 addirittura top 10 10 madonna top 10 dei manga preferiti facciamo una top 3 facciamo una top 3 la riduciamo a top 3 maurizio a 4 perché i numeri pari quindi è giusto 8 8 quello che vuoi a 6 i miei manga preferiti sono One Piece Jojo Shio e Tora 20th century boys Pluto parlando di Urasawa ne ho letti tanti ma quanti ne ho detti? 5 5 fatevi bastare perché ne ho letti un'infinità ma dire che sono i miei preferiti ce ne vuole dai ci teniamo sti 5 anche se sono pari di essere così importante però sono pari diciamola anzi sono dispari 5 non è dispari come sono pari no sono dispari ne devo dire un altro anche no o ne cancelliamo uno dai mi guardo la gamba aspetta vabbè pulmete un altro ok bravo sono 6 mauro ma che volete 10 e 44 gli anziani stanno a letto a quest'ora anzi a proposito 10 e 44 fai le domande io mi devo ordinare da mangiare che non c'è giusto allora vado avanti vado avanti ciao grandissimo man ragazzi il nostro creditissimo ostipite Maurizio questo è mister Lannister Maurizio vuoi parlarci della tua esperienza di doppiaggio in sonic 2 dove hai dato la voce a knuckles che personaggio allora è stata molto bella e vi spiego subito perché tanto ambra star notizia di là vi spiego subito perché quando ho visto il primo sonic al cinema mi è piaciuto un sacco mi ha fatto straridere e ho detto regalo devono fare due se fanno i due c'è il knuckles e se nell'uno sonic l'ha doppiato Renato Novara nel due c'è il knuckles lo devo fare io molto semplice anche perché poi c'è benedetta ponticelli che fa tales alla fine del primo perché dovete sapere che questa storia 12 anni fa allora nel cartone animato knuckles ha sempre avuto la voce di oreste baldini oreste direttore straordinario persona fantastica mi ci trovo benissimo siamo molto amici ha sempre avuto la voce di oreste baldini nel cartone animato i personaggi di sonic iniziano a parlare nei videogiochi circa 11 12 anni fa quindi vengono due rappresentanti della siga dal giappone a scegliere tutte le voci italiane e quindi mi chiamano a fare il progno su knuckles che era il mio personaggio preferito di sonic di quando ero piccolo quando io arrivo lì impazzisco dico ah knuckles era ancora il periodo della magia del doppiaggio ah knuckles è fantastico io amo knuckles poi figurati avevo già il tatuaggio dell'orsa maggiore sulla gamba quindi i giapponesi mi hanno visto l'orsa ah ok tu lo chieno ah beh è un casino insomma fatto sta che io ho vinto il provino quindi ho doppiato knuckles per 12 anni 11 anni nei videogiochi quindi l'onda la famosa ondina sono ora dei videogiochi ritrovarmi a doppiarlo al cinema che non cambiava più di tanto perché in alcune scene non c'era in alcune scene c'era solo il poligono fermo la voce di Idris Elba che doppiava in altre non era renderizzato in altre non c'era quindi non è seguito tantissimo nel videogiochi però c'era Idris Elba in cuffia aveva un'altra personalità aveva un altro spessore e io che amo knuckles ho sempre amato knuckles per l'uscetto me lo regalavo un fan a un rimini comics di tantissimi anni fa ci ho sempre avuto ero strafelice strafelice come lo sarò a fare il 3 io un po' vi ho odiato posso dire perché mio nipote adora Sonic e soprattutto adora Sonic 2 quindi l'ho visto calcola in un anno l'avrò visto almeno due volte al giorno beh divertente quindi l'ho visto una quantità di volte spropositata a un certo punto ho iniziato un po' ad odiarvi un po' non tanto però come la sigla diciamo che ho diciamo chiarito questa cosa ho riequilibrato il mio ecosistema quando ho scoperto un po' Harry Potter perché è diventato più facile fare i regali cioè Natale peluscione The Knuckles con lo gigante che fai fatto diventi lo zio preferito va benissimo così quindi è stato facile da quel punto di vista quanti anni ha il tuo nipote 5 non è ne ha 28 mia nipote è del 95 sono diventato sia in quarta elementare io vabbè comunque io andrei avanti a leggere questa che è di volevo chiederti che consigli dareste ai giovani aspiranti doppiatori qua ritorniamo al discorso di prima non abbiate fretta non abbiate fretta non se studiate tanto non abbiate fretta accontentatevi di quello che arriva e ascoltate i direttori di doppiaggio perché ti faccio un esempio io facevo FanDub prima di cominciare no? ma lo facevo su un forum il Crazy Anime Dub ok? da quel forum in quel forum c'eravamo io Jacopo Calatroni Martina Felli Katia Sorrentino poi riguarda una certa Simone Lubinacci ma erano tutti bambini erano tutti ragazzini io ero quello un po' più grande ma rimaneva tra di noi oggi il FanDub va su Instagram va su Facebook io ho visto ragazzi che fanno FanDub ricevere caterve di complimenti poi andare a fare dei provini veri ed essere distrutti dai direttori un'altra cosa anzi forse la più importante differenziatevi differenziatevi studiate abbiate una personalità abbiate un retropensiero perché tutti i doppiatori che iniziano oggi ieri l'altro ieri doppiano tutti allo stesso modo imparano un suono imparano una cosa che funziona e dato che c'è fretta di doppiare le cose tutti parlano allo stesso modo differenziatevi cercate uno spessore un retropensiero il retropensiero è importantissimo il retropensiero il retropensiero è quello che ti permette di chiederti perché stai dicendo quella cosa perché il tuo personaggio perché il tuo personaggio sta dicendo quella cosa non come la dici perché il come la dici lo possono imparare tutti impari la finestrocca impari il tono del doppiaggese che funziona e gli accidenti guardate là e l'hai detta come la dicono altre 30 persone basta evitate questa cosa cioè doppiate col cuore non con con un automatismo bello il concetto della differenziazione no? perché si tende si tende sempre a a fare omologarsi esatto omologarsi e invece secondo me il segreto no? anche secondo Maurizio ma secondo anche tanti altri professionisti è cercare la propria unicità differenziandosi da quello che è alla ricerca dell'unicità così sì 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 il senso è quello sì doppiate col cuore e non con automatismo questa citazione la vogliono tra le quote questa mi è venuta così d'amblè ormai ne ha sfornate un po' stasera questa è già la terza vedi io sembro un coglione però sfornì frasi storiche vediamo quali frasi hanno scelto dalla chat l'altra era allora questa adesso la inserisco hanno scelto quella del platino del platinare qualsiasi cosa inizi a fare ma dai sì e poi la presa per il culo la presa per il culo a spanchi quella di Timmy Turner è una bella somiglianza allora buonasera a tutti maurizio grazie per essere qui con stasera vorrei chiederti com'è il tuo rapporto con la musica ma soprattutto com'è stato dare la voce al grandissimo Elvis maurizio devi sapere che Elvis è il mio cantante preferito di tutti i tempi cioè c'è Elvis e poi tutti gli altri ho letto libri e poi tua moglie e i tuoi figli sì esatto spero di non averti deluto innanzitutto no no tra l'altro devi sapere che io sono anche il fortunato possessore del secondo l'epd Elvis originale degli anni 50 che c'ha anche l'autografo di chi c'era era un regalo c'era una storia dietro c'è un regalo che hanno fatto tipo papà figlio e c'era sta dedica là dietro che ho lasciato a penna che mi era piaciuto proprio quindi l'ho preso apposta che ha svalutato il cd ma per me ha ancora più senso più significato è bellissimo in realtà datata poi un mese non mi ricordo del 58 e quindi io ho avuto molta paura a vedere il film di Elvis però devo dire è stato molto bello e te ma anche tutti gli altri mi avete emozionato un lavoro veramente molto impegnativo vi racconto qualche aneddoto su Elvis mi capita di aprire YouTube e vedere trailer Elvis Paz Lurban in italiano ho fatto cosa c'è un film di Elvis e c'è il trailer in italiano mi si è creata una sorta di cosa strana perché ero felice che ci fosse un film di Elvis ma rosicavo che fosse già doppiato guardo il trailer e il primo trailer è prevalentemente incentrato su Tom Hanks no? Chi lo fange lo mangia e c'è una frase di Elvis in fuoricampo fatta da Jacopo Venturiero bravissimo qualche giorno dopo mi arriva un messaggio mi dicono Maurizio ci stai per un provino per un film che film? Elvis mia risposta è mi teletrasporto perché mio padre mi ha cresciuto a pane Elvis praticamente papà Elvis Chuck Berry tutte quelle quella musica lì è sempre stata presente a casa mia insomma fatto sta che mi presento a fare il provino e chiedo come mai e fa perché quello era solo un trailer è arrivato il film e vogliono i provini dato che si percorre tutta la vita di Elvis dal 19 al 42 quindi il provino consisteva in quattro scene in quattro fasi di età diversa per vedere come si riusciva e faccio questo provino e mi raccontano che appunto sarebbe stata una prima selezione in Italia e poi sarebbero stati mandati in America per una seconda selezione quella definitiva e io sono impazzito quando poi la settimana dopo mando un messaggio al direttore di doppiaggio e dico che era Roberto Cammino e dico Roberto guarda io di solito non sono solito fare queste cose non l'ho mai fatta in vita mia mi dici solo se è passata la prima selezione e mi risponde ah sì tu hai stato mandato in America e quando poi mi è arrivata la notizia che l'avrei doppiato io ero in macchina quindi ho dovuto parcheggiare un attimo fermarmi e realizzare e urlare mio papà è andato sette volte al cinema wow sette volte mio papà è andato e ti dirò cioè a fare tutto il suo escursus vocale è stato difficile ma una delle cose più belle per me è stato quando tutta la fase finale all'international quando lui va nel 69 all'international che ci rimane cinque anni tutte quelle scene dove lui è congelato sul palco dell'international io le ho fatte congelato ma dai perché lui lo tiene qui no tiene il microfono vicino alla bucca lo tiene in questo modo e tu non puoi rendere la cosa con un microfono a 50 cm da te con le giro in mezzo come fai a fare questo ti metti la mano no quindi avevo montato il gelato e io tutte quelle scene di cui il cammina fa le prove con la band oppure le ho fatte camminando per la sala col gelato mi sono imparato le battute in memoria e camminavo per la sala col gelato e anche quando lui alzava la testa seguivo i suoi movimenti per far uscire lo stesso suono quella è stata forse una cosa la cosa più bella in assurdo poter camminare per la sala con le battute a memoria schiacciarmi il gelato sulla bocca e fare tutti quegli effetti lì quella è stata bella bello bello no poi immagino perché c'era c'era una pressione enorme cioè delle aspettative anche lì anche lì l'ho doppiato in bassissima qualità io il film non vedevo poi è di Buzz Lurman insomma un regista particolare io quando ho iniziato a doppiare non capivo assolutamente niente infatti anche quando ho visto al cinema i primi 20 minuti sono un trip mentale lo devi vedere due volte per capirlo quel film per capire come è montato più che altro il montaggio di quel film particolare è stato un buon prodotto insomma ha riscosso un notevole successo e secondo me ha dato anche un po' il via a una serie di produzioni che poi sono venute anche dopo perché anche quella su Whitney Houston molto particolari però anche molto più attente rispetto al classico a me il mio rhapsody non è piaciuto non mi è piaciuto era troppo telefonato si oh regà senti qua oh senti hai visto ho fatto we were rachio bella boh te ci hai messo tre secondi per we were rachio Dio santo anche a me non ha fatto impazzire era un preconfezionato quasi si era troppo veloce poi era troppo non mi piace poi su Elvis diciamo questo è senza dubbio il miglior film su Elvis che hanno fatto anche perché se va a vedere gli altri c'era quello con Jonathan Reimmayer ancora non so se non andate c'era anche uno con Kurt Russell con Kurt Russell ancora prima c'era un una comparsata di Elvis nel film su Johnny Cash quello con River Phoenix però era proprio messa all'acqua i cinque minuti che cantava tra l'altro adesso uscirà un film su Priscilla è vero l'ho letto uscirà un film però non al cinema dove ci sarà un altro attore interpretare Elvis però ma in questo è piaciuto tanto è piaciuto tanto perché poi è raro che prenda proprio tutta la sfera no? da bambino fino a trovare al momento l'unico mio timore era Buzz Lurman perché da dopo Mouven Rouge non mi era più piaciuto cioè a me il grande Gatsby non era piaciuto quindi ero un po' spaventato su quello che avrebbe fatto ma poi sono rimasto contento insomma mi è piaciuto molto anche l'utilizzo delle musiche più particolari rendeva cioè è piaciuto ok ok allora Gnardi87 Seraman e benvenuto Maurizio com'è stato fare ok io i prodotti giapponesi non conosco le pronunce sono terribili quindi vi chiedo scusa mi anticipo fare io il maestro dei sigilli di Usho e Tora Usho e Tora allora devi sapere che Usho e Tora è ufficialmente il mio manga preferito ah ok perché non ti posso dire ancora One Piece perché non è finito One Piece proprio per quello non deve finire non dovrebbe mai deve finire sarà il giorno più brutto della mia vita anche della mia vita Usho e Tora è il mio manga preferito ce l'ho anche tatuato la gamba destra perché alla sinistra c'ho i lavori non so se sapete del mio tatuaggio magari alattico si che mi taglio la gamba e l'hai ancora mi c'ho tatuato l'altra parte me l'ha fatto mia sorella e ho sempre voluto doppiare Tora come per Overlord abbiamo fatto i prulini sono stati mandati in Giappone ma in questo caso non sono stato scelto per Tora ma il direttore mi ha voluto comunque rendere parte del progetto e mi ha chiamato a doppiare Chio e mi è piaciuto veramente tanto perché è un personaggio molto bello di scelto quindi è stato molto molto bello ok allora raga io vado vado un po' oltre perché c'è un botto di domande e io ne pesco tanto quando suonano che è arrivato il burrito io vado a mangiare giusto giusto allora quale fa passato dall'esperienza in One Piece abbiamo parlato di Mioca anche di Doflamingo quindi andrà avanti quali sono gli aspetti che ti piacciono nel tuo lavoro anche di qua ne abbiamo parlato tanto anche prima quindi andrà avanti mi soffermerei su questa non so che dice ma la vedo abbastanza lunga quindi mi fermo qua scopriamo è una buona descrizione esatto che in realtà non è una domanda quindi hai barato però la faccio lo stesso perché me l'ho detto pesto di culo faccio un saluto a Maurizio era assistente al doppiaggio alla Tecno Movie da Massimiliano direttore Maurizio ha doppiato Jurassic Games ho contato le sue battute e le sue righe 116 alcune scene doppiate con 20 righe unite registrate in rosa e venute benissimo assistito alla tua bravura seduto vicino a te un bacio da Andrea Jurassic Games è questo film di serie credo fossero gli stessi produttori di Sharknado questi detenuti che vengono messi in questa realtà virtuale su un'isola che devono scappare dai dinosauri sembra proprio il film adatto a me ora lo cercherò solo che non sanno che poi in realtà muoiono realmente nel war se vengono uccisi io sono il presentatore del gioco con la testa di dinosauri meglio di Sharknado già sono così la descrizione la premessa è già allora Will un saluto particolare al nostro fantastico ospite hai tantissime passioni e le tue attività spaziano in ogni ambito come fai a gestire il tuo tempo e faccio tre cose eppure mi ritrovo sempre con l'acqua alla gola non vivo cioè nel senso metto da parte la vita sono anni che non dorme no dormire dormo per fortuna io almeno le mie sei ore me le faccio sempre tassative perché se no non riesco a fare tutto però fondamentalmente non vivo non vivo vivo di altro vivo altre vite per non vivere la mia non vivo ma va bene così è bello Maurizio vuoi parlarci della tua esperienza di doppiaggio su Ragnar in Viking no no scherzo no ci sta è una cosa mega divertente in realtà devi sapere che Vikings è diventato famoso in pandemia no tutti tutti perché è uscito all'inizio del 2020 su Netflix tre mesi dopo pandemia nel 2020 tutti hanno visto Vikings tutti gente che mi telefonava amici morì ma tu hai doppiato Ragnar sì e non mi dici niente e io rispondi che l'ho doppiato nel 2012 ma che volete io la prima stagione di Vikings l'ho doppiata nel 2012 non avevo neanche iniziato cotto e frullato cioè non avevo neanche aperto il canale YouTube ma io non lo sapevo ok ci sta che non lo sapessi ci mancherebbe altro però sei la decima persona che mi chiama oggi questa cosa qui Vikings è diventato famosissimo con la pandemia per via appunto del fatto che stavano tutti a casa ed era su Netflix ma io l'ho fatto otto anni prima cioè io l'ho finito nel 2016 nel 2016 io ho già finito Vikings quindi molte volte la gente che mi dice ma sei passato da YouTube al doppiaggio no figlio mio prima di fare YouTube avevo fatto parecchi Maurizio quale tra tutti i tuoi personaggi a cui dato la voce senti più simile a te a livello caratteriale c'è qualcuno Zamasu perché vi vuole sterminare tutti no no diciamo a livello caratteriale Mirio ah Mirio di Mairo accadente trasformare le proprie debolezze nella propria forza e non una forza qualsiasi una forza un platino vorresti passare fra le cose dai di la verità una forza sarebbe comodo però più che altro è proprio un discorso di carattere è arrivato il burrito ecco il burrito eccolo sai che ci stavo credendo su Zamasu hai rotto il ritmo cosa? il burrito niente ma guarda in realtà quella cosa di Zamasu non è poi così una bugia se diciamo che l'altra è la risposta per il pubblico però la risposta reale sarebbe Zamasu un sterminio molto bene esatto origami all'alba ti chiede l'esperienza di doppiaggio in Bitten dove hai dato la voce a Clay io questo è un prodotto che non conosco è un un licantropo è una serie sui licantropi Bitten una serie insomma lui era abbastanza monotono monofaccia l'abbiamo fatta era mono era mono come? ti chiedono dire una serie carina una serie carina cioè lui si stava con una figa spaziale era la figa spaziale non lui che stava con la figa spaziale sì non ho fatto la stessa insieme lei lei ti chiedono anche di Razor First in Shang-Chi ah è ho fatto i grugniti erano fighi però i grugniti e due battute con il combattimento però sull'autobus sì turno 25 minuti adesso adesso c'è una domanda ricorrente che penso che capiti tipo tutte le tutte le dirette che facciamo dai fantastico pensi che i giovani che vogliono fare i doppiatori hanno possibilità di riuscirci se studiano insistono non mollando oppure il doppiaggio è quasi totalmente un mondo chiuso questa è veramente io risponderò sempre allo stesso modo il mio cognome è Merluzzo non è Ward Rossi Bocca Nera o un altro cognome famoso è Merluzzo e mi sembra di farlo anche a livelli decenti il fatto che il doppiaggio è chiuso è una scusa è la scusa della genetica come quando vai in palestra vedi uno più grosso di te dice ma è genetica sono scuse sono scuse se sei capace a fare una cosa la fai punto poi ci possono essere mille cose dietro per carità ma come è normale cioè non è una critica il figlio del notaio fa il notaio il figlio del medico per il medico molte volte quindi non vedo perché un figlio di doppiatore non debba fare il doppiatore c'è un antipidio di doppiatori che non fanno i doppiatori perché non ok non è una critica alle famiglie non ti deve porti con tutti semplicemente non devi usarlo come scusa se non ci riesci ok ok dato che è arrivato il burrito Maurizio facciamo le ultime due domande poi saluto e ti lascio mandare a mangiare ok veloci veloci caporosso ciao Maurizio visto in un tuo video che non molto tempo ha fatti sei ritrasferito a Milano in pianta stabile ora che a livello lavorativo avevi raggiunto livelli importanti prestando la voce a attori di primissima fascia non credi che il non essere più fisso a Roma possa castrare la tua carriera almeno a livello cinematografico no perché mi continuano a chiamare per i film perfetto insomma viviamo in un mondo globalizzato quindi insomma anzi faccio quasi solo quelli ormai quindi poi c'è no ma anche gli spostamenti no c'è nel senso in attimo arriva a dare un uomo in due ore e mezzo di treno insomma ci si organizza non è che non è che dici ora che sei in Giappone non è che sta non si piace più come un golfiera da una parte all'altra ho dovuto rifiutare delle cose ho dovuto rifiutare delle cose ma ma non perché penso di oh no questa robetta non la faccio ma perché ho due ho due attività a tempo pieno io cioè il web per me è un'attività a tempo pieno la mia società è un'attività a tempo pieno devo solo bilanciare le cose bilanciare ok ultima di Luca buonasera a tutti scusate senza di questi giorni ma ero in ferie avevo staccato il telefono male potevi anche seguirci ma chi ti conosce domani torno dopo una settimana in Sardegna capito adesso ti va di ancora ci fa pure rosicare capito esatto noi a legge va avanti buonasera la risposta no comment buonasera andrea spanchi buonasera mauri una domanda cioè saluta a voi a me no capito io perché che ti dovrei leggere è stata è stata una successione di passi falsi questa intro però vabbè riguardo Dune vorrei sapere se preferiresti doppiare Austin se preferisti ok doppiare Austin Butler nel 2 o Travis Fimmel nella serie tv da quello che so la serie tv è ambientata a 10.000 anni di dopo prima c'è una differenza sì quindi perché non entrambi se Ian Sante ha fatto Rocket Ragone Occhio di Falco nello stesso film perché non posso fare due personaggi nello stesso universo a 10.000 anni a distanza di anni anche Corvo mi sa esatto esatto bene anche Corvo Spanchi perché devo leggere la mia domanda è stallone non ho capito anche Corvo ha doppiato due personaggi nello stesso film quindi va bene ottima risposta se può fa bene allora Maurizio guarda noi finiamo tutte le nostre live con un saluto al canale perché perché poi questo saluto verrà preso e messo all'inizio delle dirette farà parte della nostra sigla quindi se ti va esatto purtroppo se ti va se ti va allora io vado a fare il cambio puoi anche dire di no assolutamente ed essere tra i pochi credo puntini neri che hanno detto di no però puoi farlo esatto quindi io adesso vabbè due persone due tre persone perché hanno timidi hanno detto non gli va non è che costringiamo nessuno però c'è stato anche chi ci ha detto di no era meglio di no e quindi non insistiamo mai in quel caso neva neva insieme quindi adesso Luca scrive grazie per aver letto me da lunedì torno poi quasi a tempo voglio vedere voglio vedere comunque adesso metto Maurizio Grande guarda che bello guarda che descrive adesso descrivo tolto anche il nome quindi dirò 3 2 1 partiamo la registrazione in diretta comunque ci vedono vediamo un po' se è partita ok 3 2 1 quando vuoi bomba ragazzi un saluto al canale di man under the hood l'uomo sotto il cappuccio chi sarà fantastico grande Maurizio è stato bellissimo grazie mille a tutti voi grazie a tutta la chat grazie grazie a te Maurizio e buon burrito grazie buon appetito buon burrito noi non ti rubiamo molto tempo siamo stati felicissimi insomma di aver potuto fare questa chiacchierata insieme tra l'altro il 250esimo episodio cioè rimarrà me lo ricorderò a vita che tu sarai il 250 bellissimo e ricordiamo proprio essendo un fine settimana ricordiamo cioè salutiamo ovviamente tutta la chat ricordiamo che la prossima settimana ci saranno due bellissimi talks uno con Gessa Altarelli e uno con Elena Perino che sono due colleghi di Maurizio e quindi te le saluterò te le saluterò voi comunque seguite la programmazione tutto qua continua di grande Mauri grazie Maurizio grazie mille Maurizio è fantastico grazie a voi ragazzi ciao buonanotte grazie buon burrito ciao ciao